Chi è? Qualcuno sta soffrendo. È qualcuno molto legato a noi. È una nostra... Alleata. Sto male. La forza mi viene come strappata via. Quindi sarà così che morirò. No, non posso morire. Devo ricordare. Devo ricordare perché sono nata. E perché ora sono rinata. Risvegliati. Il momento è arrivato. Avverto qualcosa. Qualcuno si sta risvegliando.